ori eccoci ciao ragazzi e ciao alle vostre famiglie o spero stiate tutti bene in salute vi auguro un buon 2021 e non lo faccio soltanto io ma anche i nostri collaboratori se ricordate l'anno scorso qui pullulava di bambini di ragazzi di genitori eravamo tutti pronti a tesserarci eravamo così pronti a dimostrare il nostro affetto per l'oratorio e a sostenerlo concretamente nelle varie spese questo gennaio invece non riapriremo le iscrizioni per più motivi intanto se qualcuno si iscrivesse all'oratorio non potrebbe godere effettivamente dei servizi per cui ha pagato e poi cosa più importante più grave tante famiglie stanno vivendo delle situazioni lavorative problematiche e non ci sentiamo di chiedere contributi in questo momento la nostra più vera intenzione è quella di sentirvi vicini di sentirci vicini a voi di abbracciarci anche se fisicamente siamo lontani penso ai volontari adulti che con costanza ogni giorno aprivano l'oratorio e ne curavano la sorveglianza penso che chiedere a loro una riapertura in questo momento metterebbe a rischio la loro salute penso ai giovani animatori che a turno ogni sabato giocavano con i bambini e poi curavano la pulizia dell'oratorio penso alle riunioni mensili di questi nostri ragazzi che si preparavano al nostro amato luglio insieme penso a loro alla loro assenza al vuoto che hanno lasciato penso a voi bambini ragazzi famiglie che nell'oratorio san vincenzo avete trovato una casa un luogo di svago un punto di riferimento sono molte le cose che non possiamo più fare concretamente assieme ciò nonostante vogliamo continuare a crescere con voi anche quest'anno verranno in nostro soccorso i canali social e dopo le vacanze natalizie torneremo a darvi appuntamento su facebook su instagram ogni settimana con nuovi contenuti per ripartire alla grande però c'è bisogno anche di voi la nostra equip social vuole coinvolgervi tutti quindi interagite con noi scriveteci i vostri gusti i vostri desideri raccontatevi la prima proposta che vi facciamo è quella di inviarci un disegno o una fotografia o una frase che racconti i vostri più bei ricordi legati al nostro oratorio pubblicheremo tutto e cercheremo per quanto possibile nei nostri social di ricreare quell'ambiente che è sempre stato il nostro oratorio san vincenzo per questo motivo ci sono piccole regole da seguire che saranno elencate in descrizione una volta preparato il materiale inviatecelo via mail all'indirizzo osv.content chiocciolagmail.com entro e non oltre il 4 di febbraio se preferite che sia condiviso in forma anonima fatecelo sapere altrimenti non dimenticatevi di scrivere nome e cognome beh vi aspettiamo a non dimenticare di iscriverti al canale di attivare la campanella delle notifiche e se il video ti è piaciuto di mettere un bel like ti aspettiamo anche sugli altri nostri profili social trovi il link in descrizione